beh questa mattina giovedì ci troviamo a questo evento qui nella piazza maggiore uno spettacolo forse a fagiolo che adesso ce lo seguiamo tutto quanto grande casa maggiore dove lo portano il re la piazza maggiore la piazza maggiore la piazza maggiore la piazza maggiore che spettacolo che c'è di cacca grazie a tutti 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 cambio della guardia del cinema con il cibo il cibo il cibo il cibo il cibo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.